Si prospetta un autunno caldo alla ex cattolica di Campobasso. Dopo la pausa estiva i sindacati tornano sul piede di guerra ed annunciano battaglia contro i 45 licenziamenti decisi dalla Fondazione Giovanni Paolo II che dovrebbero scattare il 1 novembre. Sono pronti a rivolgersi persino alla Procura della Repubblica per i presunti comportamenti antisindacali e tornano a chiedere un confronto con la proprietà. CGL, CISL, UGL e FIALS fanno fronte comune, contestano l'atteggiamento assunto dalla Fondazione definendolo strumentale ed arrogante avendo rigettato, dicono, l'offerta della Regione e della Cassa Integrazione in deroga e proseguendo quindi sulla strada dei tagli al personale. Un braccio di ferro che aggiungono i sindacati sta avendo ripercussioni pesanti non solo sui dipendenti stessi ma anche sui pazienti che vivono situazioni di disagio. Intanto i rappresentanti sindacali hanno chiesto un incontro urgente al Presidente della Regione Frattura e all'assessore al lavoro Petraroia per trovare uno spirale ad un'avvertenza che si trascina da mesi ormai. Estremamente critica la posizione della CGL. Trovo che la Fondazione ha una chiusura inspiegabile su questo accordo. Non riusciamo a capire qual è la funzione che loro chiedono alla Regione come terzo. Non c'entra in un accordo tra le parti. Quindi anche il rifiuto stesso della soluzione sugli ammortizzatori sociali in deroga per 4-8 mesi. Non ne capiamo i motivi del rifiuto. Questa posizione loro intransigente non fa che rafforzare quello che era la nostra proposta e il nostro accordo. Non si può far pagare la crisi solo e semplicemente a 45 famiglie. Avevamo proposto un 8,88% della riduzione delle retribuzioni come forma di prestito dei lavoratori nei confronti della Fondazione stessa per circa un anno a verifica. Dopodiché si vedeva se doveva essere prorogato di un altro anno con restituzione naturalmente. Perché non capisco il capitale lo devono mettere i lavoratori? Sono due cose veramente insopportabili. La vertenza cattolica nasce dal 2010. Da allora in poi comunque 100 lavoratori già hanno perso il posto di lavoro. Forse non c'è stato tutto questo frassuono perché quei lavoratori erano lavoratori a tempo determinato. Lavoratori che non avevano fatto progetti. Invece i 45 lavoratori che hanno ricevuto il preavviso sono quelli che lavorano a tempo determinato da circa 10 anni. Quindi si capisce bene che se uno ha un lavoro a tempo determinato ha messo su famiglia, ha fatto un mutuo per la casa, ha fatto delle scelte di vita. Addirittura alcuni di loro hanno rinunciato il lavoro pubblico in altre realtà italiane. Quindi oggi ritrovarsi fuori dal ciclo produttivo dall'oggi al domani non è una cosa bella da assistere.